Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Dark Souls. Avevamo interrotto la precedente parte dopo aver sconfitto i quattro re che ovviamente qui non si vedono perché siamo nell'abisso. E ci apprestiamo a parlare con Kat, l'oscuro. Parla. Non so cosa hanno fatto esplodere qui accanto a me. La verità che non mi raccoglie. Dopo l'esplodio di l'esplodio, i vecchi lordi trovano le tre le le le, ma vostro progenitori trovano un'unica le le, le 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 le. Zang 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 Il padre dei SNES e la duchina di Diozza che un giorno morà bene tra loro Il padre Gorin resiste il corso della natura per sacrificare suo自o per linkare la città e correga i loro figli per rispettare i Sunens Gwyn ha eppre la storia vista dal punto di vista di Kat E per evitare la popolazione di Diozza delle duchina di Diozza Io sono il sorpresidente primordial Il suo servizio, io cerco di scrivere le wrongi del passato, per scoprire la nostra verità, ma l'altro servizio, Frampt, ha perduto il suo senso e ha evitato di parlare, altrimenti lui non sarebbe comparso. Ci ha letta con le sue proposte, effettivamente, questo essere antico. Questa scena mette a capriccio a chiunque la vede per la prima volta? Innanzitutto perché era capricciante, lui, come tutti i serpenti primordiali, però. E qui ci troviamo all'altare della prima fiamma, o l'altare delle gambe del fuoco, non mi ricordo il nome. Questa è la origine di Venn, l'altare delle gambe del fuoco, infatti. E questo è il luogo in cui il ricettacolo delle anime dovrebbe stare, il ricettacolo dei lordi. Ecco qui che a fatica posiamo il ricettacolo nel suo alloggiamento, tra l'altro è veramente enorme. Non sembrava quando ce l'hanno dato, vero? Con questa luce, questa potentissima luce, i sigilli che bloccavano l'accesso ai tre lord, o meglio... Vabbè, sì, diciamo ai tre lord, vengono meno. Uno, due, e tre. Adesso la via sgombra per andare da loro. Tra l'altro, se non mi ricordo male, riposandosi accanto al ricettacolo... Ah no, ancora niente. Non voglio spoilerare. Quindi... Andiamo. Torniamo da Frampt. Sì, da Frampt. Da Kat. Lui vuole che noi li troviamo e li sconfiggiamo, cosicché possiamo riempire il ricettacolo dei lordi con le loro anime. A quel punto possiamo aprire la porta e oltrepassarla per andare a toglierci dalla strada il nostro ultimo ostacolo. Allora, lasciamo tornare all'abysso e trattare... Sì. Ovviamente torniamo attraverso lo stesso sistema. Ok, un viaggio decisamente anticonvenzionale anche questo ritorno. Alcassi in effetti è stato un po' inutile, potevamo poter esaspostarci già dall'altare. Vabbè. Comunque, Fram... Eh sì, Frampt. Kat, lo scuro. Ci ha... Illuminato su alcuni retroscena della... Un'altra versione della storia, mettiamola così. Riguardante Gwyn, la fiamma e quant'altro. Quindi io vorrei innanzitutto chiedere spiegazioni a Frampt. Adesso che abbiamo parlato con Kat. Si trova qui. Non l'ha presa molto bene. Decisamente, non l'ha presa bene. In vecchie versioni, buttandosi qui sotto, era possibile raggiungere la prima fiamma. Vabbè, dove siamo andati prima, praticamente, senza parlare con nessuno dei due. Ora non so se si può fare o simulare e basta. Ecco qui, Grix. E Logan, lì dietro. Immaginavo. Modestamente. Sì, però io vorrei parlare con te. Ah, questo oggetto, perfetto. Volevo prendere questo. Che aumenta la potenza delle stregonerie, ma mi pare anche delle piromanzie. Quindi nel dubbio lo prendo perché... Ok. Franchamente non ho molto interesse a parlare con Logan. Vabbè, proviamoci. Ciao a tutti. C'era di aspettare di te. Come promesso, vi farò partire. Sono freddo che il framework basico che tu vedi... Oh, non freddi. Non franze con... Praticamente non abbiamo abbastanza intelligenza per ciò che lui ci ha dovuto offrirci. E direi di chiedere spiegazioni a qualcun altro. A Gwynevere. La principessa del sole. Però prima c'è una piccola dediazione. Siamo giunti di nuovo a Norlondo. Davanti alla camera della principessa. Gwynevere. Che a quanto pare non ce l'ha raccontata tutta giusta. Vediamo un po' se ha qualcosa da dire. Inginocchiati. No. Oh, chosen undead, thou art journeyed far. Since the day father is full of spirits, I have a way to see, once living, now undead and besieged. Succeed, Lord, a grave and arduous testament. Indeed, we had felt the warmth of fire without fire. Forse è vero l'altro errore che hanno per l'oscurità. Però c'è qualcosa che non torna in questa storia. La guardiana, quando siamo arrivati qui, la guardiana del fallo, ha parlato di questa città abbandonata. Quindi io vorrei... Vabbè, la mira, insomma. Sì, l'abbiamo fatto. E qualcosa accade, in effetti. Ecco la vera natura di Anor Londo. Praticamente, la Anor Londo in realtà era così, è sempre stata così. Ma un'illusione messa in piedi da questo Gwyn... Vuol dire, ci sto strozzando, scusate, da Gwyndolin, ha praticamente creato quella forma idilliaca e epica dell'Anor Londo che abbiamo sempre visto. Gwynever stessa in realtà non era lì, era semplicemente un'illusione. Cosa che poteva essere supposta dall'equipaggiamento che tra l'altro stiamo utilizzando anche adesso, lo scudo dei Silver Knight. Ma adesso abbiamo compiuto... abbiamo distrutto l'illusione. Anche i Silver Knight stessi erano i lusori. E a quanto pare Gwyndolin ce la farà pagare. Questi sono adepti della Luna Oscura, il suo covenant. Che ovviamente puniscono i trasgressori. E quale trasgressione è maggiore dell'aver infranto l'illusione del loro dio? Sono abili però. Siamo morti e quindi ci siamo ritrovati qui. Perché il falò precedente in realtà ora non esiste più, praticamente l'abbiamo distrutto. Ci abbiamo solo un piccolo problema. La guardiana di questo falò è anch'essa un'adepta di Gwyndolin. Quindi adesso c'è Ostile. Non sarebbe un gran danno ucciderla. Cioè, non sarebbe difficile ucciderla. Non fosse che, di fatto, lei mantiene in piedi il falò di Anor Londo. Quindi non la vorrei far fuori. Banalmente. Quanto ci impiega a salire? Eccolo qua. Se non mi ricordo male, lei ci attende sul ponte. Dove... usciti dalla cattedrale o dal palazzo di Gwyndolin, chiamatelo come preferite. Ciao e vedete, sono imboscata. Ovviamente noi morendo abbiamo un pochettino rovinato i suoi piani, ma... francamente, a me ne importa relativamente poco. Ok. Ormai abbiamo smascherato uno degli inganni a cui ci sono sottoposti. Quindi, siamo pronti. Anzi, io, se ci riesco, le ignorerei completamente. Tanto è lì, vedete? Ci aspetta. Poverino. Sperando che l'ho girato nella direzione giusta. Eh, no, ho sbagliato direzione. Lì sto per fare una caduta di quelle brutte. Così era come era all'inizio. E ovviamente non andava bene per noi. Dobbiamo girarlo in un altro verso. Ancora. Perfetto. Ora possiamo tranquillamente scendere. Il ponte non è più collegato come era prima, però a noi interessa andare qui sotto. Che sarà un modo di correre? Ok. Dove, oltre a esserci un falò, che probabilmente diventerà il nostro nuovo falò abituale per Anor Londo. In quanto uno è spento e l'altro abbiamo un'empissia abbastanza ostile. Qui c'è Venello, il primo genito del sole. In questo luogo, prima ci sarebbe stato un muro con la statua di Gwyn. Ora che l'illusione è caduta, possiamo attraversarlo. Aspettiamo che adesso vada bene anche ciò che ci attende oltre questa nebbia. Tra l'altro qui si sarebbe potuto fare il patto della luna oscura. Non avessimo distrutto e fatto arrabbiare Gwyndolin. Ma vabbè, è inutile piangere sull'attività di Satana. Quindi attraversiamo questa nebbia, prepariamoci. Superata la nebbia, ci troviamo faccia a faccia, per modo di dire, con quello che abbiamo offeso distruggendo Gwynevere, o almeno la sua illusione. Infatti. E non mi sembra per niente contento. Ovvero, lui è l'ultimo genito di Gwyn. Fratello minore di Gwynevere. La fight con Gwyndolin è abbastanza fastidiosa, non posso definirla in altro modo. Lui continua a trasportarsi verso il fondo, lanciandosi bordate di energia tipo queste. Banalmente sono delle stregonerie. E alle volte, colpendoci con questi attacchi, con la balestra, mi paremmo così una balestra. No, un arco, devo usare un arco. Perché dalla sua anima è cartabile un arco, non ha molto senso così una balestra. Idealmente, quello sarebbe stato un buon istante per colpirlo. Mentre colpisce con l'arco, esattamente. L'unico problema è che lui, ovviamente, essendo un grande guerriero, e c'è ovviamente del sarcasmo in cui nelle mie parole, praticamente fugge. E di fatto non potrei neanche dargli torto, perché la sua strategia è buona. Possiede delle grandissime dode da stregone, perché andare in mischia... sconfitto. Abbastanza in fretta, in effetti. Sfavata in dark, un eterno curso per te. Le classiche maledizioni di morte... post... in punto di morte. Ok, l'illusione del corridoio infinito si infrange. E ci troviamo... Abbiamo sconfitto Gwyndolin. Dicevo, ci troviamo con la sua anima... con... e ci finiamo a esplorare lì davanti. Non c'è niente di epocale, in effetti. Però questa qui dovrebbe essere, almeno formalmente, la tomba ufficiale di Gwynd. Anche se le sue spoglie non ci sono, in primis, perché non è morto. Secondo poi, perché... si trova ovviamente dove abbiamo visto noi. Spada del Sole è un miracolo potentissimo, in effetti. Questo forziere è vuoto. Vi spiegherò probabilmente il perché. E quest'altro contiene, invece, il set della Guardiana. Eccola qua. Probabilmente anche l'altro conteneva il set della Guardiana, ma è stato dato giustamente alla Guardiana. Adesso taglio veloce fino al falò. Ok, e torniamo al Santuario del Legame del Fuoco, in quanto... vorrei farvi vedere una cosa. E mentre lo faccio, magari vi leggo anche la descrizione dell'Anima di Gwyndolin. Che comunque cita... che è l'ultimo gen... vabbè, ce l'ho, perché non... Anima di Gwyndolin nel Sole Oscuro. Dio del Sole Oscuro e Guardiano di Honor Londo. Eh, vabbè, non dice nient'altro. Poi dice la classica di Ritera, degli anime speciali, di come vanno usate. Adesso, io vorrei effettivamente acquistare una cosa da Domain. O Zina. Suppongo che nessuno di voi se l'ha scordato, perché... una persona così interessante, che dopo averlo incontrato nelle profondità, dovrebbe essere lì giù. Infatti lo vedete. Ora, io credo di lei non venire bruciato. In primis perché, come ho detto, venire bruciato per un piromante, penso sia una... presa in giro troppo grande. Ok. Così vi faccio vedere anche cosa c'era qui, anche se è un anello al sacrificio, in realtà. Anello al sacrificio. E parliamo con Domain. Ehi, salve. Domain, come ho detto, vende praticamente gli equipaggiamenti dei boss umanoidi che abbiamo sconfitto. Quindi ad esempio ci abbiamo il Golem, Ornstein, perché abbiamo sconfitto per ultimo, e Gwyndolin. Corona di Gwyndolin del Sole Oscuro, protrettrice, anche se è realtà un uomo, della città dimenticata di Anor Londo. Questa corona degli dèi richiede un portatore dalla fede incommensurabile, ma impregnata del potere della luna oscura che potenzia tutti gli incantesimi. L'immagine del Sole testimonia la profonda adorazione di Gwyndolin per l'astro. Io questa la vorrei comprare e sostituirla alla nostra, praticamente. Ok. Tra l'altro, lui più ti dà soldi, più ci dà informazione. Ad esempio, parla. Non ne abbiamo neanche ancora abbastanza. Chiamarezza. Comunque, credo che l'elmo di Gwyndolin, anche se lo trovo orrido, sarà il nostro nuovo elmo ufficiale che non trovo. Ma in realtà è anche abbastanza migliore del nostro. Eccolo qui. Sì, lo so, è orrido. E con questo nuovo outfit, magari dove non c'è il sole dietro, concludiamo qui questa parte. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao.